Musica Ben ritrovati con la Rassegna Stampa, questa è la prima edizione di oggi in studio con voi Rosario Moreno. Tutte le regioni a rischio, epidemia ingestibile e incontrollata vicino al raggiungimento soglio di occupazione negli ospedali, e questo è il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel consueto rapporto dell'Istituto insieme al Ministero della Salute si legge di una situazione che rischia di finire fuori controllo in diverse aree del Paese con le strutture sanitarie già sotto pressione. La maggior parte del territorio nazionale, se lo spiegano, è compatibile con uno scenario 3, ma sono in aumento le regioni e le province autonome in cui la velocità di trasmissione è già da scenario 4. Sempre sul Covid altre 5 regioni diventano arancioni, sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria e martedì appunto ci sarà poi il focus sulla campania. I nuovi dati del monitoraggio sul contagio portano nuove restrizioni in 5 regioni e la conferma della zona rossa per la provincia di Bolzano. Il comitato tecnico scientifico e la cabina di regia eseguiranno però ulteriori verifiche sulle altre regioni. La giornata di martedì sarà interamente dedicata alla campania. I nuovi provvedimenti comunque saranno in vigore da mercoledì. Le elezioni regionali in Calabria sono state rinviate appunto per causa Covid. Al voto si andrà tra forse il 10 febbraio e il 15 aprile. Il Consiglio dei Ministri, valutata la situazione sanitaria nel paese e nella regione, ha dichiarato a zona rossa appunto, ha deciso di posticipare il voto tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021. Di norma i cittadini si sarebbero dovuti recare alle urne entro 60 giorni dallo scioglimento del Consiglio regionale, previsto appunto per domani. La regione invece rimarrà guidata da Nino Spirli, l'ex vice della Presidente Santelli, scomparsa poco meno di un mese fa. Presentata la Task Force Anticoronavirus Americana, c'è anche la Talpa Bride. Biden dice che potremmo perdere altre 200.000 vite prima del vaccino. Nel team c'è anche l'esperto di vaccini demansionato dopo aver criticato l'uso dell'idrossiclorochina e la gestione dell'epidemia da parte di Trump. Quella contro il coronavirus è una delle principali battaglie che dovrà affrontare la nostra amministrazione e io voglio essere informato da esperti e dalla scienza. Così ha detto il neoeletto presidente che ha poi specificato che il vaccino sarà distribuito in maniera equa e gratuita. Discoteche aperte in Sardegna ad agosto, il capogruppo di Forza Italia dice lo sapevamo che i contagi salivano, abbiamo rischiato. Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia, nel Consiglio regionale in un'intervista al report ha spiegato il ritrosceno dell'ordinanza che ha lasciato aperti i locali da ballo sull'isola fino al 16 agosto, dieci giorni dopo la decisione di chiuderle del governo. Mi sono arrivate tante telefonate, gestori che ci chiedevano di tirare qualche giorno in più. Billionaire e Fai Beach avevano per esempio contratti stratosferici con DJ importanti. Notizie da Napoli e dalla Campania, bimbo ucciso a Cardito, Ergastolo per Tony e Sobti, padre e padre, è stato condannato all'Ergastolo per l'uccisione del piccolo Giuseppe avvenuto a Cardito il 27 gennaio 2019. La terza sezione della Corte di Assise di Napoli ha ritenuto colpevole di tutti i reati a lui contestati. L'uomo che dovrà rimanere quindi in isolamento diurno per un anno. Condannata a sei anni invece l'ex compagna e madre del piccolo Valentina Casa, lei è stata riconosciuta colpevole solo del reato di maltrattamenti. Assolta invece per tutti gli altri reati, è stata quindi poi assolta per tutti gli altri reati. Per la Procura di Napoli Nord, rappresentata dai PM Paola Izzo e Fabio Sozio, anche lei doveva essere condannata al massimo della pena, ma la Corte, preseduta da Lucia Laposta, ha deciso di assolverla per tutti gli altri reati. La sentenza è arrivata dopo cinque ore di Camera di Consiglio. De Magistris dalla Dusso dice che serve la zona rossa se vogliamo evitare la pressione sugli ospedali bisogna interrompere il contagio e per interrompere il contagio purtroppo bisogna fare la zona rossa. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, intervenuto a pomeriggio 5. Secondo De Magistris, per evitare che ci sia sempre più una pressione sugli ospedali, non solo ci vorrebbe una organizzazione sanitaria diversa dal punto di vista politico, che non è mai stata fatta in questi mesi, ma bisogna interrompere il contagio. E per interrompere il contagio serve la zona rossa, dico purtroppo, dice De Magistris, perché sono il primo a considerarla una sconfitta da parte di chi non è riuscito a prevenire tutto questo. Gira in auto, nonostante sia positiva al coronavirus, è stata fermata dalla polizia in tangenziale. Ieri sera agli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, alle dipendenze della sezione Polizia Stradale di Napoli, hanno intercettato in prossimità di caselli di Fuorigrotta un'auto con a bordo la sole conducente. Pertanto, dopo il pagamento del pedaggio, l'hanno fermata per sottoporla a un controllo finalizzato ad accertare il motivo del suo spostamento. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. L'onda d'urto Covid non è sostenibile, il sistema rischia il collasso. Appello di anestesiste e di animatori alla regione. La situazione è grave, dicono, servono scelte anche impopolari. Anche in Friuli Venezia Giulia l'emergenza sta presentando il conto alle strutture sanitarie, con code al pronto soccorso e riorganizzazione delle parti. A discapito delle altre patologie, ma soprattutto al personale. Per questo l'Associazione Anestesisti di Animatori Ospedalieri Italiani del Friuli Venezia Giulia ha scritto una lettera al presidente Massimiliano Fedriga e al suo vice Riccardo Riccardi per esprimere la sua preoccupazione appunto per la situazione. Si spegne una goriziana di 44 anni, il dolore della città, e il sindaco Ziberna si unisce al dolore della famiglia e dice che stiamo vivendo forse il momento più critico della pandemia. Questo pomeriggio ci è stato comunicato che una giovane donna goriziana è morta all'ospedale di Trieste. Era ricoverata da pochi giorni dopo essere passata dal pronto soccorso. Questo l'ha scritto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. È stata accertata la sua positività a Covid-19. Aveva 44 anni e una vita ancora tutta da vivere. Mi dispiace tantissimo e mi unisco al dolore della famiglia cui esprimo le più sentite condoglianze. Non so se il Covid-19 sia stato determinante oppure no. La morte è sempre comunque difficile da accettare. E se ad andarsene una persona giovane, ancora di più. Il comune di Casarsa mette a disposizione l'ex sala consigliare per i tamponi. La sindaca Clarotto dice non essendoci mostre in questo periodo la concediamo volentieri visto che logisticamente è molto comodo per i nostri medici e per i loro pazienti. L'amministrazione comunale di Casarsa della Delizia ha messo a disposizione dell'azienda sanitaria del Friulio occidentale. La sala consigliare dell'ex municipio in piazza 4 novembre per i tamponi che saranno effettuati dai medici di medicina generale della cittadina. L'ex sala consigliare spiega la sindaca Lavinia Clarotto risultata peraltro positiva al Covid è ora uno spazio espositivo ma non essendosi mostre in questo periodo la concediamo volentieri visto che logisticamente è molto comoda per i nostri medici e per i loro pazienti. collaboriamo con convinzione insieme alle autorità sanitarie per le quali siamo a disposizione con iniziative concrete come questa della ex sala consigliare. Così ha concluso la Clarotto. Cari amici, con questo è tutto termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno buon proseguimento con la programmazione. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.